Il Cile apre i dossier, era l'ora, il CEFA rende nota la documentazione raccolta, il CEFA è l'associazione ufologica cilena che collabora con le forze armate di un'associazione in seno all'ENAC, quindi alla struttura civile, di volo civile, quindi ufficiale, e saltano fuori tante cose. L'episodio più clamoroso che è stato investigato dai nostri colleghi risale al 4 novembre del 2010, all'Accademia Militare di El Bosco a Santiago, nella capitale, c'era una cerimonia ufficiale per il cambio della guardia ai vertici dell'aeronautica cilena, c'era una parata aerea alla quale tra l'altro presiedeva niente meno che il Presidente cileno Sebastiano Pignera, poi c'erano le massime autorità civili e militari, come sempre succede in queste cose, poi ovviamente fotografi, videoamatori, camera, ma era un sacco di gente. La cosa curiosa, interessante è che durante la sfilata nessuno ha notato niente, ma in seguito ben sette testimoni che non si conoscevano, sette persone differenti, si sono fatte avanti, tutte con dei video che avevano girato la sfilata, durante la sfilata, ma rivisti dopo, nei video, appariva un UFO. La cosa interessante è che il CEFA ha sottoposto il video a studio da parte di astronomi scettici, quindi che non credono agli UFO, e questi hanno stimato che l'oggetto si muoveva a 10.000 km orari, per cui non era un meteorite, non era una cometa, non era spazzatura spaziale, un uccello, un aereo, quindi tutte queste spiegazioni sono state escluse dagli astronomi. Per giunto a questo oggetto ha eseguito una manovra di volo a bassa quota e ad alta velocità, anche abbastanza pericolosa. L'oggetto mostrava degli effetti di luce ombra tipici di quando c'è un oggetto metallico, quindi solido, che riflette la luce, era un elissoide, e gli osservatori terrestri, quindi le postazioni, non hanno rilevato l'oggetto, nonostante fosse passato sopra le teste delle persone, e così, come nessuno ha accompagnato, nessuno ha notato, chiedo scusa, nulla di particolare, non hanno sentito nessun suono. Il caso è rimasto inspiegato, tutti hanno ripreso questo oggetto metallico sconosciuto, tutti e sette, e la cosa bella è che si vede l'oggetto che si muove in mezzo ai velivoli militari, che sono dei Falcon, degli F5, degli F16, che stavano volando in cielo, e questi questo oggetto tranquillamente passava vicino ai Falcon. Tra l'altro in un'altra immagine tratta da un altro filmato, quindi analizzando i fotogrammi, si vede l'oggetto vicino agli F5 in formazione, non è in questo caso un fotomontaggio, le analisi hanno accertato che l'oggetto presenta la stessa ombra dei jet militari, e lo stesso misterioso disco volante poi si vede in un altro fotogramma di un ennesimo video, in questo caso vicino agli F16, quindi li ha osservati tutti, dai Falcon agli F16. A questo punto Bermudez ha studiato il caso e in buona sostanza le sue conclusioni sono che il caso è autentico, addirittura lui ha chiesto che i vari governi aprano gli archivi, perché nel 2008 il Parlamento cileno ha approvato una legge sulla trasparenza che obbliga tutti gli enti di Stato a rispondere entro 20 giorni alle domande dei cittadini su tutto ciò che riguarda questioni di pubblico interesse, in Italia una cosa del genere ce la sogniamo, quello è il loro modo di affrontare il problema, quindi se la gente chiede loro sono costretti a rendere noti i dati, fantascienza pura qui in Europa, e la dichiarazione di Bermudez a seguito di tutta la documentazione che in questo modo è stata recuperata e resa nota è che gli UFO sono reali e si presentano sia all'interno che all'esterno dello spazio aereo controllato, non abbiamo alcuna idea di cosa siano e da dove provengano e questo è indispensabile perché ci spinge a continuare a studiare il fenomeno e soprattutto a condividere tutte le informazioni. Bermudez ha detto che lui ritiene che si debba indagare su tutto ciò che comporti un rischio alle operazioni di volo, non importa per quanto possa sembrare incredibile, ignorarlo sarebbe da irresponsabili e ha lanciato un appello, serve un'agenzia internazionale che coordini tutte le investigazioni in materia, deve poter raccogliere ogni informazione e procedere ad esami scientifici e lui pensa che potrebbe essere sotto la responsabilità del settore affari spaziali delle Nazioni Unite, quindi si torna a quello che era un vecchio sogno di Heineck e Vallée, cioè di demandare all'ONU lo studio degli UFO, all'epoca era stato lo Stato di Grenada a richiedere una cosa del genere, guarda caso un colpo di Stato aveva poi deposto il dittatore di Grenada Sir Eric Gehry, non se n'era fatto più nulla, la cosa era morta lì, bene, adesso il Cile che fa un po' da apripista in questa ricerca ufologica torna con una proposta che potrebbe effettivamente schiudere scenari veramente impensabili.